ciao a tutti oggi vi volevo mostrare come ho realizzato questo trucco e lo farò attraverso un tutorial senza un tutorial questo trucco questo trucco vi mostro come l'ho realizzato e spero vi piaccia se vi è piaciuto di se vi è piaciuto il trucco il video mettete mi piace se invece la prima volta che vedete un mio video volete vedere degli altri iscrivetevi al canale e comunque se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e ricordate sempre che se vi iscrivete al canale di attivare la campanellina delle notifiche se no le notifiche non vi arriva detto questo ci vediamo al prossimo video e io vi lascio al tutorial ciao 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 ciao